Finiti tutti i problemi del Covid, avendo la possibilità di muoverci, questo è il momento di investire anche perché noi abbiamo, e questo lo sottolineo, la disponibilità economica, ma contiamo di intercettare finanziamenti ministeriali perché ci sono per la realizzazione di queste opere, ma in ogni caso noi diamo il via sapendo di avere la copertura economica. E su questo vorrei sottolineare che l'Università è a disposizione del territorio, mi farebbe piacere anche se in altri settori, per esempio quello sanitario, si tenesse conto che noi abbiamo anche in quel campo delle energie che possiamo liberare in favore della sanità regionale. Il rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, Liborio Stupia, svela le grandi ambizioni del principale Ateneo Abruzzese, partendo dalla realizzazione di un nuovo polo didattico all'ex villaggio mediterraneo a Chieti. 64 milioni di euro già disponibili e fine lavori entro il 2028 per la costruzione di un grande edificio su un'area di circa 20 mila metri quadri all'interno del quale saranno realizzate 5 aule da 300 posti ciascuna, un auditorium, uffici, un anfiteatro, tanti parcheggi e perfino un asilo nido per le giovani mamme che lavorano all'università. Un asilo nido perché ormai noi vogliamo fare uno sviluppo che sia di un lavoro moderno. Nei paesi del nord è normale che le strutture mettono a disposizione degli asili nido per le madri che hanno appena partorito per permettere che vengano a lavorare tranquillamente ma anche per bambini un pochettino più grandi. Cioè il problema è non creare delle situazioni difficili per i nostri dipendenti ma che lavori in un ambiente che tra l'altro nella nostra idea dovrà essere anche molto bello, molto pieno di verde, che venga incontro alle loro esigenze. Questo è un concetto di socialità che noi cavalchiamo molto. Si è parlato molto sui giornali per quanto riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco a Pescara. Ecco, su Pescara quali sono i progetti dell'università? Sono molti anche su Pescara. Della caserma dei Vigili del Fuoco sapete tutto. C'è un progetto di espansione all'interno di Viale Pindaro anche là edilizia con la costruzione di una sede per il Politecnico. Abbiamo realizzato la nuova biblioteca che inaugureremo a ottobre per gli studenti riciclando un edificio che avevamo per altre destinazioni e poi diciamo che ci sono tutta un'altra serie di trattative. Dove noi vogliamo espandere tutti e due i campus al massimo possibile perché riteniamo che la D'Annunzio abbia il dovere di rappresentare per il territorio un punto di riferimento importante, soprattutto per l'economia del territorio. Un'università è una generatrice di indotto enorme. Noi abbiamo su 21.000 studenti la metà vengono da fuori regione. Quindi immaginate cosa vuol dire decine di migliaia di persone che poi vengono in qualche modo comunque a consumare nella regione Abruzzo. Quindi riteniamo di avere un dovere importante e sociale nei confronti del territorio e stiamo cercando di svolgerlo al meglio.